Ma se tu non mi fermi, mi ricordo che quando negli anni 70 c'erano le prime femministe, io mi divertivo, all'epoca era un po' così cattivello, mi divertivo ad andare a stuzzicarle, e mi mettevo di fronte e poi facevo un'affermazione tipo le donne sono stupide, naturalmente questo subito era una cosa così, ma poi però dimostrazione, perché è matematica, e la dimostrazione era che le donne sono stupide perché alle donne piacciono gli uomini, e questa è ovviamente una dimostrazione stupide.